6 mm in corso Valparaiso sotto i 2 mm in Viale Tappani. È la flessione rilevata sui due punti al massimo della sollecitazione. Un risultato positivo oltre le aspettative dei tecnici dopo le prove di carico effettuate in giornata. Su entrambi i ponti, in corso Valparaiso al mattino, in Viale Tappani nel primo pomeriggio, sono stati fatti stazionare fino a 4 camion di circa 40 tonnellate l'uno. Un mezzo alla volta è stato raggiunto il peso massimo di 160 tonnellate. La risposta elastica dei ponti è stata di pochi millimetri, come detto, e le oscillazioni sono rientrate nell'arco di 10 minuti. Soddisfatto il sindaco, proseguiremo con il cronoprogramma per utilizzare tutti i fondi per la messa in sicurezza del Rupinaro, spiega in una nota, e aggiunge, chiederò alla regione un'inversione del piano d'opera per la demolizione e la ricostruzione dei tre ponti. Se ci concederanno l'autorizzazione, conclude, vorremmo iniziare con Viale Tappani per valutare l'eventuale allargamento dell'alveo del torrente in prossimità di Corso Italia. Da dove venite per realizzare queste prove? Noi come studio siamo dall'Alto Adice, Bolzano, e le misurazioni le fa la ditta 4M di Genova. Che tecnologia è stata usata? Qui c'era in mezzo una stazione totale automatica robotica, vuol dire delle misurazioni automatizzate con un teodolite che ha misurato le flessioni e le deformazioni. Sull'altro ponte di Viale Tappani con i flessiometri, che è un altro tipo di misurazione, che ci dà però i risultati molto più veloci. Questo ponte è un po' più critico perché c'erano delle travi prefabbricate che adesso effettivamente sono in uno stato un po' più critico.